Con la bella stagione aumenta il desiderio di vita all'aria aperta per godere delle bellezze della natura e per sentire ancora quella sensazione di libertà e leggerezza che sono state tanto compromesse nei mesi scorsi dall'emergenza sanitaria. Libertà è la parola più frequentemente evocata anche da coloro che desiderano liberarsi della schiavitù degli occhiali, che limita la possibilità di fare sport, di dedicarsi alla lettura o al proprio hobby preferito e che in presenza di un impedimento visivo particolarmente importante impedisce anche di vivere la propria vita pienamente. La luce è la chiave per rispondere alla voglia di libertà che consente di trovare rimedio ai difetti visivi e alla presbiopia con delicatezza e senza invasività e che reca beneficio ad alcune patologie oculari grazie al suo utilizzo calibrato e specifico. Non perdere la prossima puntata di Box Pinelli per sapere cosa dice la ricerca scientifica e conoscere il parere di chi già ha trovato la luce per i suoi occhi. Venerdì 14 maggio alle ore 21 su Telecolor LCN 18 in Lombardia, etv Rete 7 LCN 10 in Emilia-Romagna, etv Marche LCN 12 nelle Marche, Telecolor LCN 10 a Trento, etv Umbria LCN 14 in Umbria, etv Friuli LCN 16 in Friuli, etv Liguria LCN 12 in Liguria, 19 LCN 19 a Trento Alto Adige e canale nazionale salute e natura LCN 82.